Ormai è parecchio che abbiamo trovato questo posto, ma non ci ho ancora fatto l'abitudine. Privet, Artyom! Artyom è tra quelli che hanno aperto il P6, mi hanno dato un distintivo da reggere sull'intestanza. E si illudano pure gli altri della mezza. Oggi mi ricognizione all'esterno per le bestie. Guarda quelle due recluse, patetiche. Ci credo che il colonnello ha sottoperto la sua strada. L'attacco alla grande biblioteca è solo la settimana scorsa. In pratica hanno spedito la sua squadra alla base nella chiesa, attraverso le paludi. E Romanov è stato l'unico a tornare vivo. Ma scherzi, e il resto del gruppo è stato spazzato via. Le paludi non sono pericolose. Basta cercare i segnali e le bandiere e seguirli per non arrivare. Ciao, Artyom. Benvenuto all'armeria. So che sei diventato un reggere e dovremmo avere qualcosa per festeggiare. Prima di tutto, però, equipaggiamoti a dovere. Vediamo come ordinetti servirà una maschera antigas. Non puoi mettere piede in superficie senza maschera antigas. Sono passati vent'anni, ma le radiazioni in alcuni posti fanno ancora bollire l'aria. Ci sono punti talvi anche per... Non dimenticarti i filtri per la maschera. Certo, è molto bella anche senza, ma credimi, i filtri fanno molto bene alla tua salute. E ora i Medikit. Beh, che dire, è tutto quello che ti serve per sopravvivere in una bellissima custodia arancione. Ecco la tua paga mensile anticipata. Ricorda, la tua paga è i proiettili di grado militare. Puoi spararli normalmente per infuggere qualche danno in più, ma la scelta più saggia è scambiarli con armi, modifiche, munizioni normali ed equipaggiamento dai mercanti in giro per la metro. Ora passiamo alle cose divertenti. Vediamo di trovarti un'arma. E i ranger solitamente portano con sé fino a tre anni. A te la scelta. Disgustoso! Persino gli arancoli hanno un po' di migliori e non l'avvicinare le terremoto. Vi ho controllato in zona alta. Vi allenerete perché non venite. E ora fuori di qui. Puntare! Caricare! Fuoco! Assicura! Assicura che vuoi tagliare anche un'arma a distanza ravvicinata con quello. I fucili sono ottimi per fissagli molto distanti. I fucili sono ottimi per il loro potere d'arresto a distanza ravvicinata. Ha ha! Non pensare per fissagli molto distanti. Scaricare! Bene, attimo. Poglio al mio poligono e trovo le armi. Torna qui se vuoi trovare un'altra arma. Controllare il bersaglio. Ehi, armi, a tutti. Trovare altre armi che esce. Una versione assoluta. Direi addestrare una squadra di notari che affidare delle armi a voi altri, pilota. Trovare le armi al centro del vento del maricare. Fuoco! Sì, colpo. Ora farà il bersaglio con... Pesi, la differenza? Servono più proietti. Pari che la natura. C'è il mio compito che ti hanno nominato un edge. Riprova. Basta giocare. Spara all'attentare il bersaglio. E' un colpo critico. Hai notato la differenza? Hai imparato la base. Ora puoi decidere di allenarti ancora o andare alla riunione con me. Fuoco! Ma che? La base è sicura. Quanto meno la nostra parte. Ti sarà una grande assemblea. Non badare a questo pagliaccio, Alex. Aprite i cancelli. Hai sentito di Lesnitzky? Di che parli? Chiedi alle guardie al laboratorio. Merda. Che ha fatto?